Ovvero il progetto culturale di rivivere oggi nel presente la grandezza della nostra città che è anche culturale, con le proprie opere, con i propri progetti. Oggi gli artisti del nostro tempo, artisti come Jeff Koons, irrompono. Allora se noi con questa operazione culturale riusciremo a instillare quella scintilla di curiosità con il nostro corso gratuito. Grazie. 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 Grazie.